Time out tecnico del quarto parziale, subito la situazione Perugia a 12, Macerata a 11, ma la squadra ospite è riuscita a ribaltare completamente la situazione. Adesso infatti è in vantaggio per 2-7-1, rapidamente parziali, 25-23 per Perugia, poi 25-21, 25-23 per la squadra ospite allenata da Alberto Giuliani. Il terzo set è stato combattutissimo, molto bene la spuntata alla fine, come detto, Macerata in virtù di una maggiore lucidità, soprattutto nei momenti cruciali. Perugia che era avanti, lo ricordiamo, sui 22-19, dunque tre punti di vantaggio, un momento delicatissimo e fondamentale. Perugia invece è crollata sul piano psicologico, lasciando praticamente l'iniziativa all'avversario. Adesso c'è la battuta del serbo Petric, la ricezione stavolta perfetta di Perugia, il tentativo di Macerata e il pallone che esce sull'attacco stavolta di Zayzab. Dunque la nuova situazione al palo evangelisti, quasi 6.000 spettatori, Perugia a 13, Macerata a 11, ricordiamo che siamo nel quarto parziale, ma Macerata conduce per 2-7-1. Sta cercando di prendere in largo la squadra di casa, sostenuta dal suo pubblico, Sirsef di Perugia a 15, Lube, Banca Marche e Macerata a 12. Ricordiamo che siamo nel quarto parziale e che Macerata è avanti per 2-7-1. Adesso pronto al servizio, sulla linea di battuta c'è il numero 17 di Perugia, Andrea Semensato, battuta tattica, ricezione perfetta e poi l'attacco di Macerata per il punto numero 13. Dunque due lunghezze di vantaggio adesso in questo quarto parziale della formazione di casa, mentre adesso va al servizio per Macerata Michele Baranovic. Seguiamo allora soltanto questa azione prima di tornare allo studio, la battuta di Baranovic flottante, la ricezione di Goran Buglievic, Paolucci. Buglievic l'attacco che va fuori, quindi questo è il punto numero 14 per la formazione locale, stasera seguita qui da oltre 200 tifosi molto molto calorosi. La situazione dunque, siamo nel quarto set di questa gara 2 della finale scudetto, ricordiamo che nella serie Macerata è avanti per 1-0, perché ha vinto 3-2, giovedì scorso adossimo al Palavano di Nevi. Dicevamo Perugia 15, Macerata 14, ma Macerata è avanti per 2-7-1. Studio. Va fuori la battuta potentissima di Ivan Zayzev, il giocatore di Macerata e questo è il punto numero 23 per la squadra di casa. Allora la situazione infuocatissima. Perugia 23, Macerata 18, lo ricordiamo siamo nel quarto parziale, però la formazione ospite allenata da Giuliani conduce per 2-7-1. Macerata dunque leggermente in difficoltà in questa fase della partita, del resto Perugia si gioca il tutto per tutto e vuole la squadra Umbra portare al tie-break Macerata. Adesso naturalmente esplode l'entusiasmo del Palavano degli Sti, lo ricordiamo ancora, quasi 6.000 spettatori, un'autentica sport per la pallavolo italiana. Gioco fermo, time-out chiesto da Alberto Giuliani. L'inattesimo del Palavano degli Sti, accorcia leggermente le distanze, Macerata adesso sono 4 le lunghezze di svantaggio della formazione ospite, la squadra allenata da Alberto Giuliani. Sir, 7 di Perugia 23, Lube, Banca Marche e Macerata 19. In questo quarto parziale dunque la squadra di casa sta facendo il tutto per tutto per portare Macerata al tie-break. La ricezione di Guglievic, Mific, l'attacco devastante come al solito di Atanasievic, punto numero 24 per Perugia. Siamo dunque al set point, vediamo dunque come andrà a finire questo parziale come gli altri, del resto combattutissimo, giocato sempre sul filo della tensione, molto vario dal punto di vista tecnico ma soprattutto molto intenso dal punto di vista agonistico. Adesso al servizio va un altro serbo, del resto qui a Perugia c'è un'autentica colonia serba, le mani a Petric, lo schiacciatore, maglia numero 4, maglia rossa, cioè di Perugia tutto in piedi il pubblico del Palavangelisti. Perugia 24, Macerata 19. Seguiamo allora questa azione, vediamo se si andrà o meno al tie-break. La battuta al salto, potente anche stavolta di Petric, adesso attacca e mette giù ma il pallone si è che è dentro, dice il direttore di gara che la palla è dentro, dunque questo è il punto numero 25. Siamo sul 2-2 in questa gara 2 della finale scudetta tra Perugia e Macerata, si va dunque al quinto e decisivo set. Questa è gara 2 della finale scudetta e questa è una partita spettacolare. Siamo al tie-break, Perugia avanti di un punto, Sir Septi Perugia 11, Lube, Banca Marche, Macerata 10. C'è stato comunque il ritorno, rabbioso, determinato della formazione ospite, che era sotto di tre punti all'inizio del quinto parziale, ha recuperato. Adesso c'è soltanto una lunghezza di svantaggio per quanto riguarda appunto Macerata. C'è tensione in campo, è naturale che sia così. Del resto, come detto, qui balla stasera il tricolore. Ivan Zaisar, devastante, stavolta però la ricezione perfetta di Perugia. Attacca ancora e Petric con un pallonetto in ganna, in ganna Stankovic, in ganna lo stesso Michele Baranovic e mette giù il pallone numero 12. Cerca dunque di allungare la formazione di casa allenata da Slobodan e Kovac, Perugia che del resto deve fare, deve giocare il tutto per tutto per ricordarsi in parità nella serie perché Macerata, lo ricordiamo ancora, ha vinto, gara 1, giovedì scorso nel Palasport di Osimo. Allora seguiamo questo tentativo, questa azione della formazione di casa. Simone Buti ha la battuta tattica, ha la risposta di Macerata, la battuta stavolta convincente e puntuale di Ivan Zaisar perché va... ...i sono tutti del pubblico di Macerata, arrivato fin qui a Perugia. Il resto le distanze non sono notevoli, soltanto saranno sì e no 200 km e sono arrivati in almeno 200 a sostenere la squadra allenata da Alberto Giuliani che adesso è pronta con il numero 17 Michele Baranovic alla battuta. Seguiamo soltanto quest'azione, poi torneremo negli studi di Saksarubra. La battuta è flottante di Baranovic, la risposta di Muglielis, in qualche modo Atanasievic che con la mano destra, non schiacciando, però in mezzo pallonetto riesce a mettere giù un altro punto e sono due le lunghezze di vantaggio di Perugia. Sir, 7 di Perugia, 13, Lube, Banca, Marche e Macerata, 11. Ricordiamo ancora che qui si gioca il quinto e decisivo sette di gara 2 della finale spiglietta. Martellino, Aleksandar Atanasievic pronto al servizio per Perugia, Perugia che avanti di due lunghezze, Perugia 13, Macerata 11. Perugia che lo ricordiamo è sotto però nella serie per 1-0. La grande, grandissima concentrazione del giovane serbo 22enne Atanasievic, devastante la battuta, l'eis di Atanasievic, esplode anche la gioia incontenibile del vulcanico presidente della Sir Perugia, Gino Silci che è in piedi come del resto tutto il pubblico del palevangelisti perché questo è il match ball, il match ball di gara 2 della finale spiglietta di pallavolo del campionato di pallavolo italiana. Ancora lui, ancora Aleksandar Atanasievic che non ha paura ma il pallone però stavolta finisce direttamente sulla rete e dunque comunque da ammirare, da apprezzare il coraggio del giovanissimo ragazzo di 22 anni, l'opposto serbo che nonostante questa fase appunto delicatissima ha comunque forzato comunque la sua battuta che è finita direttamente sulla rete. Due lunghezze di vantaggio, Perugia 14, Macerata 12 e adesso c'è Slobodan Kovac che chiede il time out. E' tutto pronto, pallone in mano per Natale Monopoli, tanti tantissimi fischi per lui, siamo al secondo match ball, battuta flottante, la ricezione perfetta di Perugia, attacca Petric e mette giù, mani fuori, mani fuori e dunque Perugia vince questa partita al time break, 15 a 12 il parziale del quinto e del decisivo set, dunque si torna in parità per quanto riguarda la serie Scudetta perché Macerata, lo ricordiamo ancora, aveva vinto gara 1 in casa ad Ossimo giovedì scorso per 3 a 2 e stasera qui al Palli Evangelisti ha vinto Perugia, sempre al time break, sempre per 3 a 2. Dunque siamo 1 a 1 nella serie, c'è quanti veramente l'intenzione ma si può capire grandissima tensione in campo, dicevamo 1 a 1 nella serie e gara 3 prima di chiudere, lo ricordiamo, si giocherà giovedì prossimo, primo maggio al Palabaldinelli di Ossimo alle ore 17.30. Questo punto è tutto, ricordiamo soltanto che Perugia ha battuto Macerata per 3 a 2 in gara 2 della finale Scudetta. A te la linea, Simone Tamaverdini.